Visite mediche in mattinata per Dylan Bron, il difensore tunisino nativo di Cannes è giunto ieri sera in città insieme ai suoi agenti. Dopo essere stato a cena con il DS De Santis, Bron è andato in albergo dove ha trascorso la sua prima notte salernitana. Il difensore ha manifestato grande felicità per la sua nuova avventura. Pur non avendo disputato gare ufficiali col Mezzi in questo primo scorcio di stagione, Bron è in buone condizioni e sarà convocato da Nicola per la gara di domenica con la Roma. In attesa di Candreva, Nicola sta studiando le diverse soluzioni a sua disposizione per l'esordio in campionato contro i giallorossi. In difesa c'è ancora qualche dubbio sulla possibilità di avere Radovanovic. Ghiomber, Fazio, Pirola e lo stesso Bron si giocheranno le tre maglie disponibili. Da valutare Bradaric sulle corsie laterali dovrebbero agire che Cride e Mazzocchi in mezzo al campo. Kassanos, La Sanaculi, Balì e Vilena sono in rampa di lancio. In avanti, Butaime è sicuro di una maglia, per l'altro ci sarà un testa a testa tra Riberie e Bonazzoli nel caso di 3-5-2. L'altra soluzione potrebbe essere il 3-4-1-2 con il francese alle spalle di due punte pure. Con Candreva però anche in un futuro prossimo non va sottovalutata l'ipotesi di un 4-4-2. Ovviamente tutto è legato all'evoluzione che subirà il calcio mercato da qui al primo settembre. Intanto domenica c'è la Roma e la Rechi sarà già da brividi. Grazie a tutti!